Il disegnato è il mondo, però lui ha un nemico correntissimo, più potente di Thanos, Bygon. Bygon è fortissimo, arriva in un film dopo, dopo Kang c'è Bygon, direttamente dal mondo Marvel. Possiamo iniziare, ci fate un scenno? Ci siamo? Let's go. Ok, possiamo presentarlo? Sì, direttamente dal mondo Marvel è proprio lui. Il numero 7? Sì, il numero 7, quello che grazie a lui si è sconfitto, chi si doveva sconfiggere? Perché è anche grazie a un topo che è passato, succede, i topi tante volte salvano la vita. Ladies and gentlemen, è proprio lui Damiano che oggi per noi interpreta Ant-Man! Non mi sono fatto mille domande. Scott, sei un ex Galeotis, non puoi essere una Ranger. La cosa mi guarda, ma ovunque vada mi ripetono tutti la stessa cosa. Grazie Spider-Man! Grazie a tutti! Grazie a tutti! E fateglielo l'applauso per Ant-Man e Antonio e Giuseppe, le due formighe. Grazie Antonio!